Nell'ambito delle attività che stanno a cavallo tra la formazione e il lavoro, sempre più si stanno affermando i cosiddetti stage. Ma che cos'è uno stage? È un periodo trascorso presso un'azienda o presso un'istituzione da parte di un soggetto che in questo modo può avere anche un primo contatto con il mondo del lavoro. Che cosa caratterizza solitamente uno stage? Una durata relativamente contenuta che può essere dai 3 ai 6 mesi, un inserimento in azienda, in un'istituzione attraverso un progetto formativo, per cui lo stage è sempre qualcosa di formativo, non è unicamente lavoro, un progetto che va quindi concordato con l'azienda stessa. Ed in secondo luogo ci deve essere un tutor aziendale che in qualche modo aiuta lo stagista ad inserirsi e svolgere un determinato progetto. Lo stage è diventato sempre il più importante soprattutto nei percorsi universitari o nei percorsi di terzo livello, quelli possono essere i master universitari. Qui però occorre fare una distinzione tra quello che è lo stage curriculare e lo stage cosiddetto non curriculare. Lo stage curriculare in qualche modo completa in un percorso universitario, in un percorso di master, un progetto didattico concordato e quindi ha tutta una serie di caratteristiche ben precise e ha dei determinati vincoli. Uno stage invece non curriculare è uno stage che lascia più libertà tra i soggetti nel definire i tempi, il progetto e così via. L'esperienza che cosa sta dimostrando? Sta dimostrando che gli stage in un modo o nell'altro stanno diventando una porta di ingresso fondamentale per il mondo del lavoro da parte dei giovani e ci sono dei vantaggi per quanto riguarda il ragazzo, lo stagista evidentemente accumula un'esperienza che non potrebbe avere in alcun altro modo. In secondo luogo conosce anche dei mestieri, degli ambiti lavorativi che magari solo attraverso gli studi non poteva identificare. Dall'altro lato l'azienda ha la possibilità di valutare lo stagista e quindi capire quali sono le sue potenzialità.